. Anticipazioni uomini e donne, Marco ci riprova con Gemma Galgani. . Gemma Galgani e Marco Firpo, ritorno di fiamma a uomini e donne? Il conto alla rovescia è iniziato. Tra poche ore uomini e donne tornerà nel daytime di Canale 5 riappropriandosi della fascia oraria dalle 14.45 alle 16.10. . Terminata Cerris e Asun la stagione del cuore, Maria De Filippi tornerà al timone del talk show dei sentimenti. Sarà il trono over o quello classico ad aprire la stagione 2017-18 di UED? Al momento ancora nessuna risposta. . Quel che è certo è che il filone senior di uomini e donne tornerà a puntare ai riflettori si Gemma Galgani. . La 67enne torinese sarà protagonista anche questanno nel salotto rosa di Canale 5 e lo scontro con Tina Cipollari condirà anche il prossimo inverno. . Le anticipazioni di Uomini e Donne, svelano che la prima puntata del Trono Over, vedrà Gemma Galgani in lacrime. La dama racconterà che la sua storia con Marco Firpo è finita lo scorso luglio. . . Il colpo di scena però sarà un altro. Il 55enne Ligure sarà intenzionato a proseguire la relazione con la Galgani. Marco sottolineerà di continuare a pensare alla ex, con cui ha condiviso dei momenti indimenticabili da maggio a luglio. . La Galgani aveva dato il via, nell'ultima parte della stagione di Ued lo scorso anno a un corteggiamento serrato per il Cavaliere Ligure, che aveva dato i suoi frutti. Marco Firpo di Ued pensa ancora a Gemma, spunta la speranza?. . Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Marco Firpo userà parole lusinghiere nei confronti di Gemma Galgani, al punto da far pensare in una continuazione della loro storia. . Si accenderà una nuova speranza per la coppia nata a Ued? Le ultime registrazioni del trono over hanno visto in realtà la 67enne di Torino alle prese con un nuovo corteggiatore, Gianfranco. . Con il Cavaliere ci sarebbero stati già dei baci, ma frequentazione si sarebbe chiusa dopo poche settimane. . La 67enne darà una seconda possibilità a Marco Firpo? Negli ultimi giorni era spuntata lincertezza di Gemma Galgani, ci sarà il 55enne Ligure dietro i pensieri social della Torinese? Al centro delle prossime puntate del trono over anche Giorgio Manetti. . . Il 60enne toscano continuerà a far parte del parterre dei Cavalieri di Ued e mostrerà subito le sue perplessità sul rapporto tra Gemma e Marco. . . Nel caso in cui la puntata di oggi pomeriggio sia dedicata al trono classico, Maria De Filippi presenterà i nuovi tronisti, tre dei quali già conosciuti dal pubblico attento di Canale 5. . . La protagonista femminile della nuova stagione di Uomini e Donne sarà infatti Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici, accanto a lei ci saranno Mattia Marciano, corteggiatore la scorsa stagione di Desiree Popper, e Paolo Crivellin, protagonista di Temptation Island 4. . . . . . . .